Oggi voglio cominciare a parlare dello strategy sketch. Che cos'è lo strategy sketch? Lo strategy sketch è un tool, un model, un visual model, cioè un modello di tipo visuale che mette insieme una serie di elementi per la precisione 10 ingredienti per disegnare la strategia. Lo strategy sketch è sostanzialmente una revisione, si ispira al business model canvas che a sua volta è un altro molto noto tool di strategia. Il primo elemento del quale voglio parlarvi oggi è l'elemento fondamentale della valutazione dell'azienda. La valutazione di un'azienda si basa essenzialmente su resources and competences, cioè risorse e competenze. Perché si basa su risorse e competenze? Perché dobbiamo analizzare lo stato patrimoniale e il conto economico e in parte i flussi di cassa. Ma i flussi di cassa sono i risultati dei primi due, quindi ci concentriamo prima di tutto su stato patrimoniale, dove andiamo ad analizzare che cosa? Le risorse. Le risorse possono essere di tre tipi. Le tangible resources, cioè le risorse tangibili, quelle che in Italia chiamiamo le immobilizzazioni tecniche o materiali. Le untangible resources, quelle che definiamo immobilizzazioni immateriali. E poi ci sono le human resources, che invece sono le risorse umane. Qual è la grande valutazione che devono fare gli imprenditori? Ecco, guardate, io ieri ho avuto degli imprenditori nuovi che entravano in consulenza e quello che hanno detto è stato non riusciamo a parlarci. E allora a questo punto bisogna dirottare immediatamente l'analisi da risorse materiali, immateriali e umane, cioè andare ad analizzare le competenze, perché le risorse umane non si trovano, come è noto, nello stato patrimoniale, nemmeno nel conto economico, se non in termini di labor cost. E dobbiamo esaminare quello che tu hai di non c'entra nulla la qualità, quello che c'entra è la unicità. Perché parlare di qualità se ne parla dagli anni 90, almeno io ero alla fine degli anni 90, mi occupavo in un consiglio di amministrazione, avevo la delega alla qualità, ma la qualità non ha significato se non vogliamo caratterizzare l'azienda in modo da stare nella parte superiore della media, perché se restiamo nella media va bene parlare di qualità, tutti parlando di qualità. E allora a quel punto, con quei due signori di ieri, un uomo e una donna, io ho fatto una cosa essenziale, andare a esaminare che cosa ci rende unici, è la uniqueness che è importante. E quindi si è discusso in consulenza di questo, al termine della giornata, le due persone erano molto motivate e hanno a questo punto deciso di organizzare dei consigli di amministrazione per partire da questa cosa qua, l'analisi delle risorse e delle competenze, quello che abbiamo, che ci distingue dagli altri e partire da cose molto concrete per metterle poi in atto, partendo dal dialogo. Alla prossima!